Un nuovo appuntamento con la nostra pagina sportiva. In apertura il calcio amaranto, in particolare con Lorenzo Coccia, ospite di Sottorete, il mancino dell'Arezzo è ottimista per la volata play-off dell'Arezzo. Ospite di Sottorete, Lorenzo Coccia, intanto come stai? Molto bene, grazie. Purtroppo ci sono stati dei problemini gli ultimi quattro mesi. Eh, ci abbiamo dei problemini, dai. Sì, ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto lontano dal campo per un bel periodo. Rivedendo quelle immagini abbiamo avuto molta paura. Eh, ma in realtà per una caduta molto sciocca. Però se non mi era destino che dovessi farmi male, insomma. Senti, Lorenzo, tu quando sei arrivato tutti hanno detto bel colpo perché ce lo ricordavamo quando eri con il Follone Cagavorrano. La spinta soprattutto che desti quella partita ai play-off. Sì, ho letto, non sono solido, ma ho letto qualche commento e mi ha fatto solo che piacere. Cosa ti chiede a te l'allenatore? Perché tu sei uno molto che un tempo si diceva, si fluidifichi. Ma in realtà io sono per caratteristiche, sono più, sì, come ha detto lei, un tersino un po' più di spinta che difensivo. Quindi il mister lo sa e poi diciamo che fa le sue scelte in base anche all'avversario che andiamo ad incontrare. Se vuole un tersino che spinge di più o magari vuole un tersino con altre caratteristiche. Senti, il momento è topico per la stagione, finalmente l'Arezzo è diventata la mina vagante di questo campionato. Sì, ci abbiamo messo un po' a trovare la quadra ma comunque ora stiamo raccogliendo i frutti. Abbiamo tutte le carte regola per continuare a far bene e quindi vediamo che succede in queste ultime partite. Quindi l'Arezzo che obiettivi secondo te si può proporre? Ma diciamo che ad oggi l'obiettivo secondo me è quello di pensare partita dopo partita e provare a portare i tre punti a casa. A pochi giorni dalla gara contro la Juventus Next Gen, Orgoglio Amaranto ribadisce il proprio no alle squadre B. Sabato contro i bianconeri i gruppi organizzati della curva Minghelli non entreranno allo stadio. Il calcio lo si gioca per i tifosi, per il loro amore e la loro passione. E' solo grazie a loro che questo sport è diventato il più seguito del mondo. Il comitato Orgoglio Amaranto ribadisce il proprio no alla presenza in qualunque campionato professionistico delle cosiddette squadre B e lo fa tramite una nota stampa a pochi giorni dalla gara che vedrà l'Arezzo ospitare la Juventus Next Gen. Le squadre B, spiega Orgoglio Amaranto, non hanno nessun seguito di pubblico, non attraggono nessun tifoso nemmeno della squadra principale perché non evocano nessun sogno e non ci può essere identità con un progetto che mira esclusivamente ad interessi diversi da quelli sportivi, a favore dei pochi e a discapito dei molti. La nota del comitato spontaneo di tifosi parla di un sistema sempre più chiuso in cui le piccole realtà trovano sempre meno spazio e risorse a favore solo dei grandi club guidati molto spesso da logiche di speculazione finanziaria. Intanto tutti i gruppi organizzati della Curva Minghelli hanno confermato la loro scelta così come è avvenuto nel 2018 e nel 2023 contro la Juventus Under-23 e sabato, in occasione del match contro la formazione allenata da Brambilla, non entreranno allo stadio. Ed ecco tutti i gol delle partite disputate fino ad ora nella 33esima giornata del girone B della Serie C. Le reti della 33esima giornata iniziano dall'anticipo di venerdì con il netto successo del Sestri Levante sul Gubbio. In apertura apre forte, attaccante di qualità dei Liguri che piace anche all'Erezzo. Il pareggio degli Umbri matura con una autorete. Nella ripresa il raddoppio Sestrese di Pane a chiudere i giochi. Ci pensa Sandri. Vittoria importantissima in chiave e salvezza per la formazione di Sestri Levante. Pareggio ricco di gol al Curi. Accade tutto nella ripresa. Il Pineto si rivela un osso duro e passa in vantaggio con San Nipoli. La replica del Perugia di Iannoni. Il Perugia sfrutta l'entusiasmo e si porta avanti con il Bebi Seghetti. Ma il Pineto c'è e agguanta il pareggio con Teraschi. Il Pescara torna alla vittoria con Cascione in panchina. Una rete del solito Merola piega la resistenza del Ponte Nera. Derby marchigiano al calor bianco. La ricanatese batte l'Ancona con un gol per tempo. Plamatti porta in vantaggio i giallorossi della ripresa. Carpani chiude i giochi. Salta la panchina di Colavitto. Arriva a Boscaglia. La Torres di misura piega. La Vispesaro decide. Giacchite continua la serie utile della formazione sarda. Seconda dietro il Cesena. Con un gol per tempo è sufficiente all'Arezzo battere la fermana. Il vantaggio di Catanese. Nella prima parte arriva la replica. Nella ripresa di Gucci chiude la rete di Berti che permette al Cesena di espugnare il Porta Elisa di Lucca. Romagnoli sempre più lanciati verso la Serie B. Apriamo adesso una pagina dedicata alla Serie D in campo domani per la 29esima giornata. Anticipo a Orvieto e netto successo degli Umbri per 3-0 sul Ghiviborgo. Reti di Manoni, Marchegiani e Marzili. Domani il resto delle partite che leggiamo con l'ausilio della grafica. Aquila, Montevarchi, Realforte, Querceta, Follonica, Gavorrano, Figline, Cenaglia, Livorno, Seravezza, Pozzi, San Giovannese ed ancora Tau, Alto Passo, Sporting Club, Trestina, Vivi, Alto Tevere, San Sepolcro, Poggi, Bonzi, San Donato, Tavarnelle, Pianese ed infine Grosseto, Mobilieri, Ponzacco. Rimaniamo sempre con il nostro focus sulla Serie D. Tornano infatti in campo per il turno prepasquale. Nuova verifica per le squadre aretine impelagate nella lotta per la salvezza. È la dodicesima di ritorno in Serie D e per le aretine si prospetta un turno prepasquale di passione. Non se la stanno passando bene tutte le nostre formazioni anche se per la San Giovannese la situazione è diventata decisamente migliore dopo gli ultimi risultati. Sul piano tecnico la partita più difficile è la proprio il Marzocco che gioca in trasferta con il Seravezza-Pozzi, squadra reduce della vittoria di Trestina. Non ha molto da dire ormai in questo campionato ma la compagine di Amoroso cerca un buon calcio di giocatori di grande qualità in attacco. Tra l'altro l'ex Mugelli è in grande condizione e sarà un avversario da tenere a bada. Rigucci è riuscito a ricompattare la squadra che ha trovato una rotta che l'ha fatta uscire dai play-out anche se la linea di confine è ancora molto labile. Molto delicata invece la situazione del Montevarchi. La sconfitta di Pian Castagnaio non è stata ben digerita anche se la reazione nel finale lascia dei margini di ottimismo. Contro gli amiatini è stato sbagliato l'approccio e solo troppo tardi la squadra ha capito quello che doveva fare. Domani con il Real Forte Querceta serve una risposta forte sotto tutti i profili. Chiude il conto il Sansepolcro che ospita al Buitoni il Poggi Bonzi. Altra squadra che ha poco da chiedere anche se necessita di far risultato per chiudere il capitolo salvezza. Bonura sarà privo degli squalificati della Spolettina e Borgo, titolari della difesa. E ha pure qualche acciaccato in altri reparti. Partita tosta anche per il Figline che misura la voglia di Serie C della capolista Pollonica Gavorrana. Chiudiamo con il ciclismo. Spunto vincente di Belleri nella gara di Mercatale che apre la stagione ciclistica nell'Aretino. Il più grande di tutti i tempi è di Marx, il famoso campione belga. 500 vittorie in carriera da professionista. Diceva se non ti piace freddo, gelo, vento, caldo, asfissiante, non fare ciclismo. E la Coppa a Fiera di Mercatale 2024 è stata veramente da leggenda. Con la vittoria di Michael Belleri che sul traguardo conclusivo ha anticipato Niccolò Arighetti, Edoardo Zamperini. Poi a seguire Simone Grigion, Riccardo Perani, Pietro Sterbini, Federico Guzzo, Jan Krucinski, Etienne Grimaud e poi Leonardo Vesco. Queste le prime dieci posizioni di una gara simbolo del ciclismo toscano che ha visto al via 183 partenti. Pioggia battente tutto il giorno. Fuga 3 che ha caratterizzato la competizione e che ha visto Belleri poi con una stoccata eccezionale vincere questa prestigiosa manifestazione. Sì, sono davvero contento. È la seconda vittoria consecutiva, peraltro. Ho vinto dieci giorni fa a Monte Cassiano e erano le prime due corse veramente adatte a me e le ho centrate entrambe. Fabrizio Carnasciali, questo è anche il bello del ciclismo, nel bene e nel male. Ma oggi è stata una giornata direi nel bene e nel male, come ti ha detto te, è stata tutto sommato epica, con una grande nebbia all'arrivo su un cima anche a Moncione. Quindi direi purtroppo mancato un po' di pubblico chiaramente con la stagione così, però Coppa Femme di Cassano non si smentisce mai. È andata tutto bene dalla fine. Termina qui questa edizione del nostro TG Sport. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Teletruria. Grazie a tutti.